Benvenuti a una nuova puntata di Tutte le reti minuto per minuto, edizione dedicata alle reti Champions League di cui abbiamo assistito alle prime due giornate. Ospite in studio, come sempre, il giornalista Marcello Astorri di BluRating.com, che salutiamo. Buongiorno Hilary, buongiorno ai telespettatori. Grazie Marcello. E in collegamento dovremmo avere anche il direttore Andrea Chiamonti della Gazzetta del Consulente, sempre se non ci siano errori. Buongiorno Hilary, buongiorno. Ma mi dicono dalla regia che dovrebbe essere più o meno tutto regolare. Ottimo. Allora, iniziamo un po' a definire quella che è stata la classifica, innanzitutto, del girone A e poi anche del girone B. Allora, nel girone A abbiamo Banca Generali, che si attesta con 12 punti, poi IV Bank con 9 punti, Azimut con 7, Banca Mediolanum con 6 punti, Deutsche Bank Financial Advisor con 6 punti e Consult Invest con 2. Invece, per quanto riguarda il girone B, abbiamo BNL, BNP Paribas con 12 punti, Fineco con 10, Allianz Bank con 7, Gruppo Fideuram 7, Credem 4 e Guidiba 2. Ma allora, dici un po', Marcello, tu cosa ne pensi di queste due giornate e sì, dici un po' il tuo parere, insomma. Sicuramente c'è stato lo spettacolo che noi tutti auspicavamo per questa prima edizione della Reti Champions League. I risultati sono stati per certi tratti sorprendenti, come vediamo il punteggio pieno di Banca Generali, guidata dal mister Gian Maria Mossa. 12 punti sono veramente tanti per una compagine che aveva avuto qualche problema, ma devo dire che mi ha sorpreso molto questo inizio sprint. Marcello, ti devo interrompere perché credo che voglia intervenire il direttore, Andrea Chiamonti. Direttore? Sì, pronto? Scusami, Hillary, se vi permetto di intervenire, però di fronte a certe affermazioni, diciamo, azzardate, non posso non intervenire. Perché qua lo sappiamo tutti, no? Banca Generali non è una sorpresa, come si fa a definire una società capace di portare quei volumi di raccolta ogni anno, con costanza, una sorpresa. Mi sembra davvero una definizione un po' semplicistica. Verrebbe da dire che non mi sorprendo che la verità stori, perché lo conosciamo un po' tutti, il mercato lo conosce. Non lo sto neanche a dire, se no lo sarebbe, perdoni di con lei, ma magari sarebbe qua in redazione con me. Vabbè, comunque sia, no, per me è giornata interessante. Chiaramente Banca Generali, BNL, BNP Paribas sono top, su questo non c'è da discutere. Un po' di sorpresa è quella di Uidiba, diciamo, con tutta questa discussione, questo presentarsi come assolutamente all'avanguardia. Poi, alla prova dei fatti, un ottimo calciomercato, alla prova dei fatti, ancora abbastanza poca la performance per questa Champions. Vedremo, vedremo quello che riserverà al futuro. Chiaramente, ricordiamoci bene, e qua chiudo anche con le polemiche, è inutile che fai quella faccia storia, è inutile che fai quella faccia perché lo sai benissimo, lo sappiamo benissimo qual è la storia. E forse devi anche studiare ogni tanto. Vabbè, niente, diciamo che questi sono i favoriti. Ma se il direttore Chiamonti mi avesse lasciato finire, io non volevo togliere in alcun modo i meriti a Banca Generali, ma d'altronde noi sappiamo le note simpatie del direttore per Gian Maria Mossa. Eh, ok, Marcello, che è il direttore, vogliamo, diciamo, un po' temperare queste litiche in studio, insomma, non sono così tanto bene accette. Sì, però deve essere anche lui così. No, 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 ma certo, le opinioni... No, 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 ma certo, le opinioni... No, no, Marcello, stai qui, tranquillo, anzi, guarda, colgo l'occasione per farti un'altra domanda. Secondo te, chi sono stati il top e il flop di queste prime due giornate? Beh, mettiamo Banca Generali così il direttore è subito contento. Citerei BNL Benpepa Ribà, guidata dal grande mister Rebecchi, che è a punteggio pieno, ricordiamolo, nell'altro girone. E citerei anche la sorpresa, i VBank, sempre che Chiamonti sia d'accordo, Di Muro si è reso protagonista di un inizio veramente scintillante della sua giovane e promettente rete. Ok, chiediamo anche, facciamo la stessa domanda anche al direttore. Le cosa ne pensi? È d'accordo con il giornalista Storri o ha una visione un po' diversa? Sì, beh, a Storri finiamola con le scenette. Qua siamo seri, siamo giornalisti. Ti do anche ragione su top e flop. Un piccolo dettaglio, dimenticate i flop, perché sono citato i top, no? Ma vabbè, sei un po' distratto, ma oggi l'abbiamo capito, no? Flop, allora dai, buttiamoci UID, ma crede, su, dai, vabbè. Ok, grazie direttore anche per la sua opinione. E adesso, Marcello, ti faccio un'ultima domanda. Insomma, secondo te, dopo tutti questi ragionamenti che abbiamo fatto insieme, cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima giornata? Ma io credo che potrebbe esserci una riscossa per quelle due reti che al momento sono le cenerentole dei rispettivi gironi, che sono Consulti, Investe e UIDI, ma sono reti che hanno un'ottima squadra e quindi, secondo me, si riprenderanno. E mi aspetto di più anche da Banca Mediolanum, che è a sei punti, ma credo possa fare meglio di così. Grazie mille, Marcello. E invece lei, direttore, cosa si aspetta dalla prossima giornata? Grazie, Ilari. Naturalmente, se mi permetti un secondo, dare appuntamento ai nostri lettori per domani. La prima pagina sarà la grande mossa di Mossa, assolutamente da non perdere. E niente, quindi aspettiamo questa terza giornata e magari senza storie. Ritorniamo in studio, ringraziamo il direttore Andrea Chiamonti per aver partecipato, ringraziamo Marcello Storri. Grazie a voi, mi scuso con i telespettatori, si è avuto un diverbio prima con il direttore Chiamonti, ma quando sento sciocchezze, purtroppo, non riesco a stare zitto. Tranquillo, Marcello, il confronto è sempre ben accetto. Ora, chiudiamo questa puntata un pochino impegnativa e appuntamento alla prossima giornata.